Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è questo bellissimo motivo a cuori che sono ovviamente legati, è un motivo molto bello ma sinceramente vi devo dire anche questo che è un motivo molto difficile da fare, quindi diciamo che non lo consiglierei sicuramente alle principianti, però con un po' di buona volontà riusciamo a fare un po' tutto, quindi diciamo che questo motivo io lo consiglierei a chi è già esperta, vi faccio vedere sul davanti il motivo si presenta in questo modo, è un motivo molto bello, quindi particolare sul dietro si presenta in questo modo e si realizza praticamente montando sul ferro 14 maglie più due finali, quindi io in questo caso ho fatto tre motivi, quindi sono andata a montare sul ferro 14 maglie, 14 maglie, 14 maglie più due, più ovviamente le quattro di vivagno, quindi due per ogni lato che vanno a formare ovviamente il bordo. In altezza il motivo si realizza in 10 ferri, in questo caso io ho fatto tre motivi, quindi 1, 2 e 3 e sul dietro le maglie diciamo che i ferri li facciamo insieme, perché ovviamente essendo un motivo abbastanza difficilotto e molto particolare diciamo che anche i ferri di ritorno dobbiamo vederli insieme. Vi dico già che io vi lascerò come sempre per iscritto il motivo, ma vi consiglio di guardarlo perché diciamo che ho impiegato un po' di tempo per poterlo scrivere perché ci sono dei passaggi che sono un po' particolari. Comunque niente di complicato, cioè piano piano si riesce a fare un po' tutto. Andiamo adesso a vedere come si realizza. Allora andiamo a montare sul ferro 14 maglie più due, in questo caso io ho fatto tre motivi, quindi sono andata a montare sul ferro 14 maglie, 14 maglie, 14 maglie più due e ovviamente le quattro di vivagno che vanno a formare il bordo. Andiamo adesso a vedere come procedere. Allora primo ferro, vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno, iniziamo. Vivagno, due rovesci, quindi uno e due, quattro diritti, uno, due, tre e quattro. Due maglie insieme a diritto, due gettati, uno e due. Una diminuzione semplice, quindi sposto sul ferro di destra una maglia senza lavorare, lavoro la seconda maglia a diritto, a cavallo la prima sopra la seconda. Quattro diritti, uno, due, tre e quattro. Vado a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con due rovesci, quindi uno e due, e ovviamente il vivagno. Il secondo ferro, andiamo a fare due rovesci di vivagno, due diritti e andiamo adesso a replicare il motivo, quindi tre rovesci, uno, due e tre. SSP, cioè andiamo a fare il filo, lo lasciamo sul davanti del lavoro, portiamo due maglie a diritto sul ferro, presa diritto sul ferro di destra senza però lavorarle. Con il ferro di sinistra rientriamo dentro queste maglie, in questo modo, le riportiamo sul ferro di sinistra e con il ferro di destra le andiamo a prendere da dietro, in questo modo, e le lavoriamo a rovescio. Due gettati, quindi uno e due. Lasciamo andare adesso i gettati davanti in questo modo, quindi li lasciamo andare, due maglie insieme a rovescio, tre rovesci, uno, due e tre, e due diritti. Chiudo il ferro con due rovesci di vivagno, terzo ferro, andiamo a fare il vivagno, due rovesci, due rovesci, uno e due, due diritti, due maglie insieme a diritto, due gettati, quindi uno e due. Lasciamo cadere i gettati precedenti del ferro precedente, quindi uno e due, e andiamo a fare una diminuzione semplice, quindi uno, lo passiamo, il secondo a diritto, accavaliamo il primo sul secondo. Due diritti, uno e due. Vado a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con due rovesci, uno e due, e ovviamente il vivagno. Quarto ferro, andiamo a fare il vivagno e quindi due rovesci, due diritti, un rovescio, SSP, quindi filo davanti, spostiamo sul ferro di destra due maglie prese a diritto, con il ferro di sinistra rientriamo e le riportiamo sul ferro di sinistra e con il ferro destro li andiamo a prendere da dietro, in questo modo, e le lavoriamo insieme a rovescio. Andiamo a far cadere i due gettati precedenti, due maglie insieme a rovescio, no, scusate, andiamo a fare due gettati, quindi uno e due, e adesso andiamo a fare due maglie insieme a rovescio, un rovescio e due diritti, uno e due. Andiamo a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con due rovesci di vivagno. Quinto ferro, vado a fare il vivagno, due rovesci, uno e due, due maglie insieme a diritto, due gettati, uno e due. Lasciamo cadere il gettato precedente, una diminuzione semplice, vado a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con due rovesci, uno e due, e ovviamente il vivagno. Sesto ferro, vado a fare il vivagno, quindi due rovesci, due diritti del motivo e iniziamo il motivo ad ripetere, quindi un rovescio. Faccio cadere i due fili precedenti, quindi due gettati precedenti, li lasciamo cadere e andiamo a creare quattro maglie, quindi semplicemente andiamo a fare così. Prendiamo il filo, andiamo a fare un cappietto, uno, due, tre, e quattro. Ok? Adesso con il ferro di sinistra, cioè con questo ferro, andiamo a recuperare questi fili, ok? Quindi uno, due, tre, quattro, e cinque. Per cui infiliamo il filo sotto, cioè il ferro, nei fili, quindi li recuperiamo. Andiamo ovviamente a lavorare adesso un diritto, quindi un diritto, e un rovescio, quindi filo davanti, un rovescio, e buttiamo giù. Creiamo quattro maglie, quindi di nuovo una, due, tre, e quattro. Un rovescio e due diritti, uno e due. Ne rifacciamo un altro insieme, perché è un po' complicato. Allora, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un rovescio. Facciamo cadere i gettati del ferro precedente, ok? Dopodiché cosa facciamo? Creiamo quattro maglie, quindi una, due, tre, e quattro. Ok? Adesso cosa facciamo? Con questo ferro recuperiamo questi fili, quindi infiliamo il ferro, piano piano, e tiriamo su i fili. Lavoriamo un diritto, quindi entriamo in questo modo, nelle maglie, quindi lavoriamo un diritto, e lavoriamo un rovescio, quindi filo davanti, in questo modo, rovescio, ok? buttiamo giù i fili. Andiamo a creare quattro maglie, quindi una, due, tre, e quattro. Andiamo a fare un rovescio, e due diritti, uno e due. Ok? Chiudo il ferro con due rovesci di vivagno. Settimo ferro. Andiamo a fare il vivagno. Due rovesci, quindi uno e due. Dodici diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, e dodici. Vado a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con due rovesci e il vivagno. Ottavo ferro. Vado a fare due rovesci di vivagno, quindi uno e due. Due diritti, dodici rovesci, quindi uno, due, tre, quattro, e due. Chiudo il ferro con due rovesci di vivagno. Non ho ferro. Vado a fare il vivagno. due rovesci, dodici diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, e dodici. Vado a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con due rovesci e ovviamente il vivagno. decimo e ultimo ferro. Vado a fare due rovesci di vivagno, due diritti, dodici rovesci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, e dodici. E due diritti, uno e due. Allora, come potete vedere il motivo praticamente è terminato. Per ripeterlo non dobbiamo fare altro che ripetere i ferri dal numero uno al numero dieci. Vi ricordo che sotto al video vi lascio il motivo per iscritto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!